Bene, buongiorno a tutti. Spero che vi trovate qui per uno scopo preciso ed è lo scopo di dare gloria a Dio, di voler fare la sua volontà. Voi pensate che stare qui è secondo la volontà di Dio? Sì o no? Stare a casa mentre noi siamo qui è la volontà di Dio? A meno che si allettati. Va bene? Abbiamo cantato, grazie al gruppo Lode, lo ringraziamo di cuore, la tua volontà il mio scopo sarà. Fa rima nella canzone, nel canto. Ma quanti di noi abbiamo cantato questo canto di vero cuore? O lo abbiamo cantato religiosamente? Perché questo è un momento di canto. Voi sapete che cantare significa anche pregare. Questa mattina continueremo con Giacomo e Giacomo devo dire che sta dando schiaffi da ogni lato. E questa mattina se voi siete qui sicuramente il Signore ha qualcosa da dirci. Andrà tutto bene? È il titolo di questa riflessione. Se segui la volontà di Dio. Andrà tutto bene? Questa frase è scritta ovunque, in tutta la nostra nazione, sui balconi, sui muri. I bambini all'asilo, alle scuole scrivono e fanno questo arcobaleno. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. La domanda è, sta andando bene? Beh, fino al 30 settembre i morti hanno raggiunto 35.875. Andrà tutto bene? Hanno perso il lavoro 3 milioni di italiani fermi per decreto e altri 3,6 milioni rischiano. Andrà tutto bene. Da marzo 71 suicidi correlati all'epidemia e aumentano anche del 30% i ricoveri in ospedale. Andrà tutto bene. In realtà devo dire che per qualcuno sta andando bene. Penso ai produttori di mascherine, gel igienizzanti. Tutto il mondo, dovete sapere, si sta unendo per una nobile ricerca vogliono risolvere il problema del coronavirus provvedendo un vaccino. Facendo questo vaccino, andrà tutto bene? Il mondo si sta unendo per una nobile ricerca che è la pace, la prosperità di tutta l'umanità ma senza alcun riferimento a Dio. Proprio l'altro ieri leggevo il salmo 117 che è un salmo molto corto ma è un invito straordinario che purtroppo questo invito fatto da questo salmista non è accolto dall'umanità intera. Il salmo dice lodate il Signore voi nazioni tutte, celebratelo voi tutti i popoli poiché la sua bontà verso di noi è grande e la sua fedeltà e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Nel mondo, nelle nazioni piuttosto c'è una sostanziale indifferenza verso Dio. Nel mondo c'è questo persino un forte scetticismo sulla sua esistenza. Ora come potrà andare tutto bene nel mondo se le persone vivono la loro vita senza alcun riferimento a Dio? ditemelo voi. I nostri governanti fanno qualche volta riferimento a Dio? andrà tutto bene e non andrà bene. Non andrà bene per niente perché si esclude Dio da tutte le decisioni da prendere. Dovete sapere che il 100% delle persone sono umanisti. Il 100%. e la cosa triste di questa statistica è che il 98% crede in Dio. Allora, la maggior parte sono umanisti. Il 98% di questi umanisti credono in Dio. E voi sapete quali sono gli ideali umanisti? sono nettamente contrapposti alla fede, al senso del peccato e al ripudio della vita mondana. Sono proprio il contrario, l'esatto opposto. Dio semplicemente non fa parte della vita quotidiana, del 98% di cosiddetti cristiani. E pensare che proprio questo 98% crede in Dio. Capite perché le cose vanno male. L'arrogante indipendenza da Dio della nostra cultura è così dominante che anche molti cristiani, forse la maggior parte, frequentano la Chiesa, si sposano, scelgono le loro aspirazioni, hanno figli, comprano, vendono case, si trasferiscono, cambiano lavoro, abbiano i loro portafogli, credenti, travolti dalle correnti della cultura senza un minimo riferimento sostanziale alla volontà di Dio. Sono sempre più di più i cristiani che non pregano mai seriamente sulla volontà di Dio riguardo alle loro aspirazioni. Non pregano. Non pregano mai riguardo alla direzione familiare, se trasferirsi, non trasferirsi. Non pregano mai. Sono sempre meno credenti che cercano effettivamente la volontà di Dio. un giorno Agostino, insomma voi lo conoscete, Agostino comunque è stato un padre della Chiesa cattolica, però ha detto anche delle cose giuste, e fra le cose che ha detto un giorno disse ama Dio e agisci come ti pare. Pensateci bene, ama Dio e agisci come ti pare. E molti cosiddetti cristiani cambiano questa frase così famosa di Agostino, agisci come ti pare e di che ami Dio. il 98% dei cosiddetti cristiani fanno quello che vogliono e poi dicono che amano Dio. Vengono fuori in Chiesa! Quanti credenti nominali ci sono in giro? Ebbene, fratelli, amici, lo Spirito Santo sfida questa arroganza. E lo fa in un modo anche duro, anche forte. E se qualcuno da questa mattina inizierà ad odiarmi, state sbagliando, non dovete prenderla con me. Dovete prenderla con la parola di Dio. O forse anche con Dio stesso. Lo Spirito Santo ci vuole sfidare e vuole sfidare questa arroganza, questa cultura deviante che c'è nei nostri giorni attraverso le dure parole di Giacomo che stiamo studiando nei versetti 13 a 17 del capitolo 4. E vi invito ad alzarmi in piedi mentre leggiamo questa parola. E ora a voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovresti dire invece se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Accomodatevi, fin qui la parola del Signore. In questi versetti c'è una verità centrale che vorrei darvela questa mattina. Dio non condanna la programmazione. Dio non condanna la pianificazione della nostra vita, ma piuttosto il non lasciare a Lui lo spazio che gli è dovuto. Questo condanna. Quando facciamo i nostri piani e togliamo Dio dai nostri piani. Questi versetti che abbiamo appena letto trattano del vivere secondo la volontà di Dio. Ora, si presuppone che un cristiano, che tale si definisce, un credente, cioè sia una persona fondamentalmente impegnata a fare la volontà di Dio. Giusto? Questo è il presupposto. Se siamo cristiani vogliamo seguire la volontà di Dio. Gesù disse in Marco 3,35 Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Guardate quanto eleva il Signore Gesù chi fa la volontà di Dio. Ciò che contraddistingue un vero figlio di Dio è proprio questo, il forte desiderio di voler fare la volontà di Dio. Ora, pensate un attimo in questo momento, dentro il vostro cuore, senza parlare. Io ho questo forte desiderio di voler fare la volontà di Dio? Ora, questo non vuol dire, quando si ha questo forte desiderio, che lo facciamo sempre. Ma quando non riusciamo a fare la volontà di Dio c'è questo forte senso di vergogna, di tristezza, perché non stiamo facendo la volontà di Dio, il salmista dice così, nel salmo 40, versetto 8, leggo io, Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Ora, quando il Signore ha impiantato la sua parola, lo Spirito Santo nella nostra vita, c'è questo desiderio, c'è poco da fare, non possiamo fare altro che fare la volontà di Dio. E lo possiamo dire tranquillamente, fare la volontà di Dio è un segno di un vero credente. Ci sono tanti versi nella Bibbia che parlano di fare la volontà di Dio, come per esempio il salmo 143, versetto 10, dice così, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Insegnami a fare la tua volontà. E Gesù collega la relazione con Dio nel fare la sua volontà, quando disse queste parole e leggo in Giovanni. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni disse, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Quindi la volontà di Dio è collegata strettamente all'ubbidienza a Dio, compiere. Cioè non è soltanto un desiderio, io so cosa Dio vuole che io faccia e poi però faccio il credente del 98% che credono in Dio, però sono umanisti. Qui si parla di qualcosa di più forte, più incisivo. Io voglio fare la volontà di Dio perché è il mio cibo e voglio anche compiere la volontà. Il Signore Gesù collega una relazione, una reale relazione con Dio vincolata da una perfetta ubbidenza alla sua volontà. Se non c'è il desiderio di fare la volontà di Dio, questo è un chiaro segno di una ribellione verso Dio. Questo è un segno di un cuore non trasformato che non ama Dio. Ora, in questi versetti che abbiamo appena letto, Giacomo presenta almeno cinque possibili atteggiamenti verso la volontà di Dio. Ne presenta ahimè quattro negativi e uno giusto. Questa mattina ci soffermeremo sui primi due, poi la prossima volta Dio volendo tratteremo gli altri. Primo atteggiamento di cui parla Giacomo, un atteggiamento negativo verso la volontà di Dio che ci presenta Giacomo, è la prepotenza verso la volontà di Dio. Prepotenza. Versetto 13. Giacomo, se vedete, non so se voi vi state sentendo attaccati, ma Giacomo ha questa caratteristica. Attacca, dà schiaffi a destra e manca. Non prende la tangenziale per dire le cose, no? Perché oggigiorno c'è l'idea che se tu devi avvicinare una persona per il Vangelo devi fare attenzione come parli perché le persone si scandalizzano, no? Si devono scandalizzare se vogliono credere in Gesù, altrimenti non arriveranno mai alla fede. Altrimenti noi offriamo un Vangelo alleggerito, come fanno i supermercati che dici compri, ne paghi due, ne prendi tre. Giacomo non è di quelli che offrono a buon mercato la parola di Dio e qui lui dice chiaramente, va subito all'attacco e dice e ora a voi che dite il suo attacco è indirizzato proprio nel contesto immediato qui del testo, come possiamo vedere, ai credenti commercianti. C'è qualcuno commerciante qua? Uno e c'è qualcun altro. Dai, alzate la mano, non vi preoccupate che non vi fa niente. Uno, solo uno. Gli altri sono fra quelli che si sono persi. Però qui Giacomo si presenta proprio a quei credenti commercianti, credenti materialisticamente concentrati nelle sue chiese, cioè i credenti che frequentavano la chiesa di Giacomo erano così, erano commercianti ed erano materialistici, erano lì concentrati nella chiesa di Giacomo. Credenti che hanno mappato con arroganza le loro destinazioni e i soggiorni sulla base della redditività, della produttività. Io faccio qua, vado là, devo guadagnare, devo avere soldi. E i credenti senza ovviamente, questi credenti che fa Giacomo, fa riferimento a Giacomo, sono credenti senza alcun riferimento alla volontà di Dio. Perché di per sé non è sbagliato pianificare. È sbagliato quando pianifichiamo e togliamo Dio dalla nostra pianificazione. Quindi credenti prepotenti verso la volontà di Dio. E ora voi che dite? La parola dite, dal greco, significa dire qualcosa senza ragione o logica. Voi parlate per difendere il vostro reddito. La prepotenza viene manifestata quando si privilegia la programmazione della nostra vita escludendo Dio. Quando tu escludi Dio dalla tua vita sei un prepotente. Ti elevi al di sopra di Dio. E il versetto 13, se ci fate caso, ci presenta cinque fasi di una programmazione quasi perfetta. Non è perfetta perché vi è l'esclusione di Dio, ma se ci fosse stata l'idea di inserire Dio in questa programmazione, sarebbe stata perfetta questa programmazione. Vediamola insieme. La prima fase di questa programmazione, di questa pianificazione, si decide il tempo, espressa con le parole oggi o domani. Avete visto? Oggi o domani, il versetto 13. Questa espressione esprime una certa urgenza. Oggi o al massimo domani non bisogna perdere l'occasione. Oggi o domani non lo devo fare assolutamente. Gli affari sono affari. Guai a chi tentenna. Bisogna essere brillanti e bisogna essere decisi. Oggi o domani. Aspetta, aspetta. Oggi o domani tu sei un credente. Tu hai un impegno con la Chiesa. Oggi o domani cosa? Tu stai programmando, stai pianificando. Oggi o domani che cosa? Che cosa? I tuoi guadagni. Ma io ho un impegno con la Chiesa, la Chiesa può aspettare. E figurati. Passi in secondo piano. Il Signore, beh, figurati il Signore. Il Signore capirà. Seconda fase. Quindi si parla di tempo. Seconda fase per la pianificazione. Si decide il territorio. Guardate il versetto 13. Andremo nella tale città. Non si va all'avventura quando uno vuole fare i soldi. Non si va all'avventura. cerca di collocare il territorio giusto per guadagnare. Solo un poco da nulla. Abramo è partito senza sapere dove andare. Ma gli altri credenti sono furbi gli altri. Gli altri sanno dove andare. Sanno. È come se lo sanno. Se l'economia gira in quella città, è là che bisogna andare. Ora non importa se là non ci sono credenti. Non importa se questa città ti porta fino a Sodoma e a Gomorra. Non importa. Ma lì gira l'economia e io vado là. E voi che dite questo? Dice Giacomo. Poi c'è una terza fase. Se vedete in questo versetto 13, per la pianificazione, si decide un termine. Vi staremo un anno. Si stabilisce una scadenza precisa. Se si vuole fare tanti soldi, bisogna essere seri negli affari. In questo anno io farò 13. Poi c'è la quarta fase, se vedete, per la pianificazione. Si decide il tipo di impegno. Trafficheremo. Trafficheremo. Sì, perché io credente ci so fare. Il Signore mi ha dato la saggezza per trafficare. Cioè compreremo, venderemo, faremo fruttare i soldi. E poi che fanno i credenti del 98%? Che fanno? Spiritualizzano e dicono così si può essere più generosi per l'opera del Signore. Quanto sono bravi questi credenti. In realtà, quando si fa tutto questo lavoro, questa pianificazione, si correrà a destra e a manca come dei forsennati per restare a galla e per non perdere le occasioni, a discapito di che cosa? E io questi credenti li conosco, li vedo, a discapito della vita spirituale, che diventa di secondo ordine. E Giovanni, ma io devo pur vivere? Certo. Ma mettici in mezzo nella tua vita, Cristo, e ti faccio vedere che ti accontenti anche di poco per vivere. A discapito della vita spirituale. Hai avuto tempo di leggere? No, Giovanni, che ti devo dire? Appena mi alzo metto i piedi a terra, devo correre. A discapito della comunità. Non si frequenta più, non si vedono più e sono commercianti, sono importanti, devono trafficare. Non si prega più, non si adora più insieme agli altri. È addirittura una cosa incredibile, non si sente nemmeno il desiderio di stare insieme agli altri, dimenticando quello che la parola di Dio dice. Il Salmo 127 dice così, in vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Vi state affannando per niente. niente. Zero. Zero. State accumulando per niente. E c'è una quinta fase, se vedete qui. Quindi si decide il tempo, si decide il territorio, si decide il termine, si decide il tipo di impegno, si decide il totale. Guadagneremo. Questo è l'obiettivo. Guadagneremo. Si sta decidendo per guadagnare, invece si sta decidendo di tracollare spiritualmente. La parola greca è la radice della nostra parola emporio. L'emporio è un luogo di lavoro, dove produce affari. L'obiettivo è uno solo, fare soldi, realizzare un profitto. E' emporio. Proprio all'opposto di quello che ha insegnato il Signore Gesù. L'esatto opposto. E Giacomo, fratellastro di Gesù, che conosce l'insegnamento del suo fratello, sta dicendo voi vi state creando una vita a parte. Che non ha niente a che vedere col Vangelo. E Gesù ha insegnato, il fratello ha insegnato, non fatevi tesori. Dove? Terra, sulla terra dove tignola, la ruggine consumano e dove i ladri scassinano ne rubano. Ma fatevi tesori dove? Più forte? Cielo. In cielo, dove ne tignola, ne ruggine consumano e dove i ladri non scassinano, ne rubano. Perché? Perché? Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ai tempi di Gesù, la tignola, la ruggine e i ladri colpivano il patrimonio di ogni persona che, insomma, possedeva qualcosa. Ai nostri giorni assistiamo all'inflazione. Ai nostri giorni assistiamo alla svalutazione. Addirittura assistiamo ai rovesci finanziari e assistiamo ai ladri informatici che con un click... si perdono migliaia di euro. L'attacco di Giacomo non vale solo per i commercianti, ovviamente, attenzione perché uno ha alzato il braccio qua, gli altri... no. L'attacco di Giacomo non vale solo per i commercianti, ma anche per chi mette in cima alle sue priorità la carriera, il successo. La carriera e il successo mondano. È vero. Alcune volte le conversioni, e questo devo dire per onore del vero, io sto facendo insieme a delle nuove, nuovi credenti, un corso di discepolato. Una delle prime cose che ho iniziato a dire, ma siete sicuri? Perché seguire Cristo ha un costo. Quindi, è vero, le conversioni possono avere un costo socialmente ed economicamente pure, però vi devo dire una cosa. Nel primo amore, quando si ha un amore sviscerato per il Signore, si sopporta ogni difficoltà con grazia, perché si sopporta qualsiasi difficoltà? Perché ci si aggrappa Cristo con tutto ciò che abbiamo. Questo quando c'è il primo amore. Quando poi passa il primo amore, le preoccupazioni della vita, che prima si riuscivano a sopportare con grazia, queste preoccupazioni di guadagnarsi da vivere, iniziano proprio a dominare di nuovo, prendono il sopravvento del credente. E i credenti cui scriveva Giacomo arrivavano, arrivarono addirittura a presumere che il profitto, cioè guadagnare tanto, è equivale a fare la volontà di Dio. È la stessa cosa, io guadagno molto, sto facendo la volontà di Dio. E ben presto, quando passa il primo amore, si ritorna facilmente a essere uomini fatti da sé, uomini sicuri di sé, seppur fossero magari cristiani, vivevano come se questo mondo fosse tutto ciò che c'è. Se pregavano, pregavano in riferimento alla loro vita, non alla vita degli altri, ma alla loro vita, pregavano, la loro preghiera a Dio era non di dire Signore dove o cosa devo fare, ma questi pregavano per chiedere la sua benedizione su loro piani. I loro piani erano esattamente come siamo noi, uguali, identici, figli, siamo totalmente figli del nostro tempo. Il nostro concetto della volontà di Dio è legato alla ricchezza e alla prosperità. Tanto che ci stanno adesso quelli che giustamente dicono che credere in Gesù significa prosperare, essere ricchi. Si sono aggiustati il Vangelo, ma ci sono quelli che non si sono aggiustati il Vangelo, ma che lo vivono allo stesso modo. E purtroppo abbiamo spesso, come genitori cristiani consigliato ai nostri figli, figlio mio, assicurati di avere un posto fisso. Il posto fisso è importante in modo tale che tu avrai una tua professione in cui ti guadagnarete a vivere per non lottare come ho fatto io. Quanti genitori dicono così ai propri figli? Pensate alcuni genitori cristiani, persino si sono posti in malo modo pur di dissuadere i figli dal fare che volevano fare i missionari. No, non sia mai! Non sia mai! E sapete perché? Perché la vita missionaria non è redditizia. Tu puoi chiedere i tuoi diritti al datore di lavoro, puoi avere tutto quello che il sindacato ha cercato di lottare, di far avere. Dico sindacato e mi fermo qui. Ma i missionari quali diritti hanno? Quali diritti hanno? Beh, in alcuni ambienti invece è molto redditizio essere missionari, eh? Ma, diciamo, una piccola cerchia, una piccola elite non è per tutti. Però guardate, nonostante il nostro parlare evangelichese, spesso viviamo senza un serio riferimento alla volontà di Dio. E questa mattina lo Spirito Santo vuole farci capire questa realtà. Noi facciamo i credenti, ma in realtà facciamo i fatti nostri. Sapete come si chiama questo? Ateismo pratico. Il 98% dei cosiddetti credenti che fanno le cose che vogliono e poi dicono di credere in Dio sono atei, praticamente sono atei. Dio è fuori dal loro concetto, dalla loro vita, dal loro cuore, dai loro pensieri, dai loro piani. È fuori. E spero che non sia fuori dalla tua vita. Cristiani schiacciati dal successo sono diventati inutili per la testimonianza. Inutili. Paolo dirà, quelli che vogliono arricchire, attenzione, prima Timoteo 6, versetto 9 e 10, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, attenzione bene, l'amore per la volontà di Dio, no, non è l'amore per la volontà, l'amore per il denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Qual è il tuo desiderio? Fare la volontà di Dio o fare soldi? Questo è il risultato di una prepotenza invece che arrendevolezza alla volontà di Dio. E voglio andare avanti, se mi permettete, un altro, qualche altro minuto. Secondo atteggiamento negativo che presenta Giacomo verso la volontà di Dio che ci presenta? Abbiamo visto la prepotenza verso la volontà di Dio, adesso vediamo l'ignoranza verso la volontà di Dio. Giacomo, non so, in qualche modo io e Giacomo ci assomigliamo, io ovviamente assomigliavo anche a Giovanni, vabbè Giacomo, insomma, Giovanni si assomigliava. Comunque Giacomo vuole scuotere una simile mentalità, proprio direi con una potente logica spirituale che presenta qui nel versetto 14. Leggetelo insieme a me. Ce l'avete le Bibbie? Dice così Giacomo, mentre voi dite così che faremo, trafficheremo, andremo, guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. La prima cosa che dice Giacomo come potente logica spirituale è che la vita è piena di imprevisti. E dice Giacomo, è così piena di imprevisti che tu non sai cosa succederà domani ed è sciocco, è stolto pensare a ignorare la volontà di Dio. Mi è uscita stolto all'Abruzzese, diciamo così. Ma vivo in Abruzzo pure, quindi va bene. Allora, pensateci un attimo. Questa potente logica spirituale, che la vita è piena di imprevisti, ricordo il 9 giugno del 2019, tornavamo da Bari, io e Fiorella, stavamo viaggiando sulla Adriatica, l'autostrada a 14. Un viaggio perfetto. Era pomeriggio, non c'era una nuvola, faceva caldo, un traffico normale e di colpo eravamo così, diciamo, nella vicinanza di Foggia e da lontano, non proprio lontanissimo, vedevo questa nube di fumo molto intensa provenire da un campo adiacente all'autostrada. Una nuve, perché poi c'è il vento che soffiava e andava proprio sulla carreggiata dell'autostrada. Solo la grazia del Signore ha fatto sì che io mi potessi fermare proprio dove c'era l'inizio di questo muro di fumo. Mi sono fermato, ho messo le quattro frecce e dietro di me si sono fermate tutte le macchine. Quando si è diradato il fumo c'era una specie di apocalisse. In quel fumo si erano tamponate una decina di macchine e chi urlava sto morendo, chi era tutto insanquinato e io sono sceso dalla macchina e ho detto signore, che ti devo dire? Grazie. Un attimo, un imprevisto. E non mi sto a soffermare quello poi che è successo lì, mi sono messo a pregare per tutti, c'era un ragazzo, un giovane, mi diceva ma sto morendo secondo te. Aveva la bocca tutta sto... Vabbè, mi fermo qua. Gli imprevisti. La verità che esprime qui Giacomo in questo verso è che la morte, perché io penso che se noi fossimo arrivati pure di colpo, senza frenare, senza fare quello che ho fatto per grazia di Dio, chissà cosa sarebbe successo a me e a Fiorella. Avremmo potuto perdere la nostra vita. E la verità è proprio che quello che vuole esprimere Giacomo in questo verso, a questi che dicono che trafficheremo, andremo, faremo, che la morte potrebbe arrivare a chiunque di noi ogni momento, ogni giorno. Perché dice qui non sappiamo quello che succederà domani. Ora, nessuno di noi sa cosa riserve il futuro. Forse un'inversione finanziaria, un incidente, o una felice scoperta memorabile, forse un'alluvione, oppure il ritorno di Cristo. Noi non sappiamo cosa ci riserve il futuro domani, oggi. Infatti possiamo dire insieme allo spirito Maranatà, Signore, Gesù, vieni. Però quando si vive così, con questi imprevisti, non sapendo gli imprevisti, è presunzione carnale dire che faremo questo o quello viaggiando qua o là, senza il bel game minimo riferimento alla volontà di Dio. Questo non riguarda solamente per l'incertezza della vita, ma anche per la sua brevità della vita. E poi c'è qui, se vedete, una seconda logica spirituale che presenta Giacomo. Oltre gli imprevisti della vita, la seconda logica spirituale di Giacomo ha a che fare con la fragilità della nostra vita. E Giacomo dice che che cos'è infatti la vostra vita? Siamo un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Questa è una similitudine eloquente, direi. Ora è, diciamo, ora che è un po' autunno, inizia a fare un po' freddo, tutti noi quando facciamo qualcosa nel giardino, stiamo camminando forse a passo veloce, esce fuori respirando il nostro, l'umidità, si vede questo che esce e poi di colpo scompare. Quando vediamo la nebbia, magari se facciamo una passeggiata in mezzo al bosco, c'è questa nebbia, piccola nebbia, si poggia sull'erba calda e fa questo vapore e poi di colpo appena spunte il sole e fum, compare. Quando per esempio ci sono i cammini accesi, no? Questo fumo che esce dai cammini, quasi palpabile a un certo punto, da un attimo è sparito. Ci avete presente quasi tutti voi che cucinate una pendola che bolle, togliete il coperchio, il vapore e si perde di colpo sotto il soffitto. Giacomo sta dicendo, tale è la durata delle nostre vite. È così, le nostre vite è così, siamo temporanei. Sta dicendo che noi moriremo molto presto. Voi che trafficate, voi che volete guadagnare, voi che volete andare qua e là, fra poco morirete. La lettera degli ebrei dice, come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Vedete, questa è roba seria, è roba molto seria, che non si può trascurare. E io ringrazio Dio che ci dà la possibilità di studiare la Bibbia in questo modo, parola per parola, versetto dopo versetto. Giacomo sta dicendo, ignorare la volontà di Dio è sciocco, non solo perché non conosci gli imprevisti del futuro, ma è sciocco, stolto perché sei così fragile, sei vulnerabile, sei precario, non puoi trascurare la volontà di Dio. È evidente che lo spirito di Dio vuole che comprendiamo e interiorizziamo la brevità della nostra vita, lo vuole. Lo dobbiamo capire che siamo fragili. Oggi ci siamo e domani non ci possiamo essere, potremmo essere. L'Antico Testamento a questo riguardo contiene tante similitudini parallele. Per esempio, vi leggo in Giobbe, per Antonomasia, Giobbe riguarda la morte e malattia, diciamo, non lo supera nessuno. E lui dice, al versetto 9 del capitolo 7, la nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risale. Basta guardare il cielo, no? Quando guardiamo magari distesi, guardiamo le nuvole, iniziamo a contemplare queste nuvole. Poi le nuvole prendono delle forme e dicono, guarda, guarda, quella sembra quella, quella sembra quella, poi di colpo, pum, basta un attimo di vento e scompaiono. Giobbe dice ancora, Giobbe nel capitolo 9, versetto 25, dice, i miei giorni se ne vanno più veloce del corriere. Avete visto il corriere SDA? Quando arrivano, che in altro poco ti lancia un nuovo pacco e dice, tu ti devi allenare a prendere il pacco di malattia, perché quelli corrono veloci che devono consegnare tutto. E Giobbe dice la stessa cosa, i miei giorni se ne vanno più veloce di un corriere. Eccolo che arriva questo giorno, eccolo che va, questa è la vita, questa è la mia vita, la tua vita. E Giobbe ha molto da dire a riguardo, dice ancora al capitolo 9, 26, dice, i miei giorni passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda. Voi avete visto qualche volta una barca all'orizzonte, barca a vela all'orizzonte, poi se n'è andata, dice Giobbe, così è la mia vita. Davide, il re Davide cantò, i miei giorni sono come l'ombra che si allunga e si ineridiscono come l'erba. Salmono 102, versetto 11. L'ombra cevo, sapete, ma in un minuto svanisce, viene inghiottita davanti ai nostri occhi e scompare per sempre. Questa è la vita nostra. Nello stesso salmo leggiamo, poiché i miei giorni, dice Davide, svaniscono in fumo e le mie ossa si consumano come un tizzone. E poi questo è un altro salmo molto bello, nel salmo 39, versetto 5. Davide dice, ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di un palmo. La mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Io immagino Davide mentre canta col gruppo Lode, no? Nel tempio. E tiene la mano così. E canta e dice, Signore, la mia mano, la lunghezza della mia vita è come un palmo. Fate così pure voi, fate così. Mettete le altre due dita. Quanto tempo ci impiegate? Eh? Giacomo sta prendendo spunto da queste similitudini e Davide dice, l'esistenza, hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di un palmo, di qualche palmo. E poi naturalmente c'è la famosa sua frase che tutti noi conosciamo, i giorni dell'uomo sono come? Le, l'er, l'erba. E quella è un'altra, però i giorni dell'uomo sono come l'erba. E' come l'erba. Germoglia, diventa verde, appassisce e non c'è più. Le parole su parole, similitudini su similitudini, ricche metafore intrecciate per farci capire, arrivare il messaggio di Dio. Uno dopo l'altro, da migliaia di anni, uomini e donne hanno vissuto vite brevi. Brevi. La Montalcini, la famosa scienziata atea, senza Dio, ha vissuto 103 anni. Pensate alla bontà di Dio. Dici, tu sei atea, sei intelligente, ma io ti voglio far cambiare a lungo perché tu mi devi scoprire. 103 anni. Il totale della nostra vita è un secondo se si paragona rispetto alla durata infinita dell'eternità. 100 anni sono un secondo se paragonata con l'eternità. Oh, come vorrei che il messaggio dello Spirito Santo arrivasse nel cuore. Come vorrei. Questo messaggio. Penetrando ogni schema mentale della nostra vita, perché noi abbiamo i nostri schemi e alcune volte noi predichiamo e prendiamo solo quello che vogliamo. Vedi l'ultima domenica, l'ultima domenica scorsa. Tanti hanno capito che bisogna fare molta attenzione, no? Non diceva questo realmente Sergio. Diceva che Dio, la nostra vita è nelle sue mani. Paolo è stato lapidato, non è morto. È stato preso per morto, ma non è morto. Quindi non abbiate paura. Non prendiamo dei messaggi quello che ci fa comodo. Quanto sarebbe bello che lo Spirito Santo arrivasse proprio nel nostro cuore, penetrando questi schemi mentali che ci siamo fatti. E lo auguro a tutti noi qui presenti, ma lo auguro anche a quelli che ci stanno seguendo da casa. Voglio finire con questa illustrazione. Si dice che molto tempo fa, quando un imperatore d'Oriente fu incoronato a Costantinopoli, il muratore reale, colui che doveva preparare quello che adesso vi sto per dire, avrebbe presentato all'imperatore un certo numero di lastre di marmo. E prima dell'incoronazione questo sovrano, questo imperatore, avrebbe dovuto scegliere la lastra di marmo lì per lì, subito lì per lì per la sua lapide. Gli antichi, pensate, pensavano che fosse saggio per il re ricordare il suo funerale al momento della sua incoronazione. Sarai re, ma ricordati che tu morirai e la tomba è già pronta. Il tuo funerale è già pronto. Io penso che sarebbe una cerimonia da fare ai laureanti quando si vanno a prendere la laurea. Scegli la lapide che vorrai per il tuo... Penso che sia opportuno fare una cerimonia di genere quando si insiedono i nostri politici, governanti. Firmate, giurate, scegliete pure la lapide che vorrete nella vostra tomba. Ai politicanti, fin anche alla gente esultante, tutti dovremmo prepararci a questo evento così importante che inesorabilmente si avvicina, pensate, giorno dopo giorno. Ah se tutti, giovani, meno giovani, in un'ottima salute o malati, potessimo percepire quanto sia breve e quanto imprevedibile è la vita. Se noi comprendessimo questo sarebbe molto, ma molto facile dare tutto a Cristo. Sarebbe molto facile invece di correre, di trafficare, guadagnare, accumulare, trascurando la cosa più essenziale. Ah se noi comprendessimo la brevità della nostra vita. Lo Spirito Santo di Dio dice insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Basta un po' di umiltà alcune volte. Non ci vuole molto. Giacomo sta dicendo che ci sono alcune persone che ignorano la volontà di Dio. Questi non sono veri credenti. Sono degli atei pratici con il nome di credenti. I veri credenti non ignorano Dio quando pianificano la loro vita. Non conoscono il futuro. Sanno di essere fragili. Sanno di essere vulnerabili. Sanno di aver bisogno di Dio. Sanno. E chiedono il suo aiuto. E si impegnano a fare la volontà di Dio. Non so se questa mattina c'è qualcuno che forse si vede, si paragona a questi uomini, queste donne a cui scriveva Giacomo. Oggi è il momento della salvezza. Non rimandare a domani. Quante volte tante persone mi hanno salutato. Giovanni ci vediamo domani. E sono morti. ma una tranquillità nel mio cuore sapete qual è? Mi dispiace che sono morti e che muoiono ancora altri. Ma io ho predicato il Vangelo. Quello vero. Quello senza me, senza se, senza ma. Il Vangelo puro. Quello che se tu credi sarai salvato. E se non credi sarai giudicato. non morite senza il Signore. Non pianificate la vostra vita senza il Signore. La vostra vita, la nostra vita è come un vapore. Abbiamo bisogno di essere contenuti dal Signore. E questo vapore potrà durare un'eternità. Non sprecare la tua vita. E ora voi che dite? Oggi, domani, andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. E così, fratelli e amici, non prendetevela con me. Dio vi ama così tanto che permette che persone come me vi dicono le cose come stanno, senza abbellire nulla. Perché due sono le cose. O si è del Signore o non lo si è. O si crede veramente, lo si segue facendo la sua volontà. Oppure diciamo solo di essere credenti e facciamo quello che vogliamo noi. E questa parola è per te. È per tutti noi. Io sono qua. Noi siamo qua. Non andate a casa, per favore, se ancora non vi siete decisi per Cristo. Non vivete nella vostra vita di peccato, escludendo Dio. Cristo Gesù è venuto e è andato sulla croce per i nostri peccati. Non escludetelo. Vuole portare guarigione nella nostra vita, nella tua vita. Io sono a disposizione. Non andate via senza prima fare questo passo. Non voglio essere come quel predicatore che disse alla platea, che lo stava ascoltando, ravvedetevi, convertitevi e sarete salvati. Avete una settimana di tempo per farlo. Una settimana di tempo. Ma se noi non sappiamo quello che succederà domani. Infatti in quella città è successo un terremoto e la stragrande maggioranza di quelle persone che avevano avuto una settimana di tempo sono morte. Tu non hai tempo. Ora è il tempo. Ora è il momento di seguire Cristo. Ora ti devi alzare. Ora, non domani. Ora ti devi mettere al sicuro la tua anima e nel tuo spirito. Domani è troppo tardi. Signore, ti ringraziamo per questa parola. Ti ringraziamo di vero cuore perché tu sei un Dio meraviglioso e anche se dice le cose così come stanno, lo dici per il nostro bene. Così come fanno i genitori per i figli che vogliono, che amano e che vogliono essere, che siano educati. Ci hai detto quanto è breve la nostra vita, quanto è fragile la nostra vita. E ci hai detto anche di fare la tua volontà nel modo giusto. Ti prego che in mezzo a noi ci siano uomini, donne che prendono la decisione nel cuore di seguirti, di servirti e di amarti per fare ciò che è giusto fare e non di fare ciò che fanno e poi dire che ti amano. Signore, inverti quelle che sono le situazioni della nostra vita in modo tale che tu possa avere la priorità. Benedici, Signore, questa parola che qui nessuno di noi qui possa uscire senza avere la certezza della salvezza, la certezza di appartenere a te. Certi che siamo un vapore, ma certi che ti apparteniamo e siamo eterni insieme a te. Ti ringraziamo e ti benediciamo in Cristo Gesù. Amen. Grazie. 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 Grazie.